ok Giuseppe vogliamo sapere che tipo di volo abbiamo perché non lo troviamo là basta mettersi qua in questo posto guardare lo schermo c'è riconoscimento facciale c'è riconoscimento facciale e mi dice dovremmo andare il gate quando gira siamo in due e quindi ne dice due ma ci vuole un numero il gate lo dà in cipolle però che so problema